rieccoci una nuova avventura finora niente ora ho trovato qualcosa ora la guardiamo insieme è una medaglietta probabilmente vediamo non so se è una forcheria eccoci qua vediamo un attimo cos'è fuori eh sì non so cosa sia forse una medaglietta qualche cosa. Andiamo avanti. Vediamo cos'è il segnalino. Buttoncino militare. Accanto al nostro bottoncino, tempo di sfriciolare un po' in quella e subito qua sotto si intravede qualcosa. Cos'è? Un bel distintivo US. Molto bello, bella roba, un bel target. Buttoncino, sempre militare. Qui c'era un bel segnale. Molto deciso, pulitissimo e, beh, sembra una lattina ma in realtà secondo me è qualcosa di molto più interessante. Ebbene sì, questo è qualcosa di molto più interessante. Guardatelo poi appena lo avrò pulito o qui sulla destra o qui sulla sinistra. In preview appena pulito. Bella roba questo. Proseguiamo velocemente perché ci stanno dilagnando le zanzare. Un bel segnalino. Ora, questa sinceramente non riesco a capire cosa possa essere. Potrebbe essere una votiva anche. devo pulirla. Pulirò e ve la farò vedere. Andiamo, andiamo avanti. La serata si sta intensificando particolarmente. Non si capisce il perché. Però noi continuiamo anche con le 200 tonnellate di zanzare e questa bellissima fibietta. Probabilmente di epoca bellica. e continuiamo. Vedi com'era deciso questo segnale qui? Sì, sì. Cioè, non cambia, non cambia. Guarda. Vedi quando lo giri, guarda. Ma è in superficie ora? Ci sei? È abbastanza in superficie. Eccolo qua. Cioè, questo qui secondo me è un qualcosa di qualche militare americano forse che... Con doppio buco. Che voleva scrivere forse il nome o lasciarci una mostrina o qualcosa e ha fatto il buco però sul centesimo americano. Assurda questa cosa qua. Questa è una più grande e una più piccola. Cioè, è strano. Se ne avesse messo uno, si è preso una collana. Ma due così? Che vuol dire? Non capisco. Molto bello questo ritrovamento. Tenuto anche bene. Sì. Questo se ci pulisci viene fuori un bel lavoro. Bellissimo. Tanta roba. Un bel ritrovamento questo qua. Sì, americano. Io proprio, io guardo, non ho parole. Cioè, guarda come segna, vedi come segna bene? Guarda, non cambia, non cambia. Quando... Non cambia, non cambia. Cioè, questo è proprio il segnale tipico del... Del... Una moneta. Vediamo... Cioè, è questa, guarda. Messa di coltello, guarda. Che bello. Poi lo puliamo. È di fuori sta roba qua. Eppure le segna bene. Cioè, non è che lo segna male. Guarda. Io, io non capisco perché deve fare così. Telefoccio e la moneta. Oh. Cioè, costo io un cinque spiga, eh. Guarda. Sì, c'è la spiga. Visto? Cinque spiga. Cinque centesimi di spiga. Tenuto bene rispetto agli altri, comunque. Boh, ora li puliamo.